Allora, io sono Silvia Giambrone, parliamo della performance. Dunque, beh, diciamo questa performance è nata, se vuoi, per... cioè è una performance in cui il corpo è l'oggetto. Ora, parlare di corpo oggetto è una cosa piuttosto pericolosa, però se si vede la performance poi si capisce di che si tratta. Mi interessava che, diciamo, attraverso il corpo e attraverso la musica si potessero creare delle relazioni diverse. Cioè io in questa performance sono effettivamente uno strumento musicale, cioè vengo usata esclusivamente come uno strumento musicale. Ed è importante, credo sia interessante notare come le relazioni cambiano secondo del significato che il corpo assume. Cioè nel momento in cui io sono un corpo di donna, in cui sono Silvia, in cui sono una persona, esistono tutta una serie di pudori sociali perché il corpo ha quel significato, un significato sociale. Quando il corpo diventa uno strumento musicale tutte le inibizioni decadono e allora diventa sublime e la musica diventa la cosa più potente. E questo è quello che mi interessava. Grazie. 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 Grazie.